Non c'è bisogno Qual è il momento, la scena, barra le scene dei film di Harry Potter che ti ricordi di più perché ti ha dato una forte emozione o perché in fase di doppiaggio ti ha dato tanto e te la ricordi meglio Sono tantissime, adesso faccio un po' di confusione però ci sono delle scene che ricordo perché ho fatto delle cose strane che generalmente in sala non si fanno e ad esempio quando, credo che fosse in terzo, il quarto, grazie il quarto film è quando lui, già saprei quello che volevo dire quando lui va sott'acqua, praticamente, c'è tutta la parte sott'acqua e io l'ho fatta sott'acqua davvero, nel senso c'era il supervisore inglese che era un matto, Ray matto, scocciato no, no, devi fare una vera scena e quindi volevo portare uno stabbacinello in acqua ci misero dentro il microfono e io feci tutta la scena dentro l'acqua rischiando quasi da fuocare perché lui mi teneva la testa e questa, sì, la ricordo perché, insomma, è una cosa che non succede generalmente, insomma oppure un'altra che ricordo quando lui si modifica tutta la faccia e feci tutta quella scena con tutta l'ovata, tutta l'ovata in bocca per far sembrare proprio che avessi le ossa spezzate anch'io quindi queste sono quelle, le scene che ricordo anche se non riesco a collegarle ancora a quali film che ricordo maggiormente